Mai arrendersi e migliorarsi sempre, questo è il motto scelto poco fa in conferenza stampa da Stefano Piolli alla vigilia della partita di domani sera contro il Bologna alle ore 20.45, alla vigilia dell'inizio del campionato del Milan Un saluto tutti gli amici di Milanello, agli iscritti e ai non iscritti, ci sono tanti che guardano i nostri video e non sono iscritti Iscrivetevi sulla bandierina rossonera, è gratis e entrate a far parte della nostra community di chi ha il Milan nel cuore di chi ti fa Milan davvero con grande passione e grande cuore Allora, prima di parlare del calcio mercato, un paio di spulti da Piolli Piolli che parla di Paquetà, dice vedremo cosa ci dirà il mercato Lui forse è condizionato un po' anche dal nostro modo di giocare, dal modulo Chiaramente Piolli non ci punta più e spera che questa sessione di mercato che si sta per concludere lo possa portare via e possa portare al Milan dei soldini Ricordiamo il prezzo bilancio, più o meno 23, 24, 25 milioni di euro La cifra, grosso modo, visto che c'erano anche dei bonus, è quella Paquetà deve andare via per fare anche mercato in entrata Questo è importante, quindi concentriamoci, come dico sempre Allora, prima di parlare del mercato, domani sera ci saranno a San Siro mille tifosi Tra cui anche il nostro avvocato del diavolo Emiliano Nitti Che dovrebbe fare anche una diretta pre-partita, vediamo Quindi vediamo se pian piano i tifosi possono tornare allo stadio Un in bocca al lupo a Robach che si è fatto male con la primavera Un problema anche abbastanza serio l'avambraccio Quindi speriamo possa tornare in tempi brevi Ripartirà ovviamente dalla primavera E vedremo un po' che percorso farà dopo quanto ho fatto vedere Buonissimo in questo pre-campionato A proposito di giovani, Milan come vi dicevo sempre, spesso su questo canale Alla fine ha deciso di far partire Pobega Di fargli fare le ossa altrove In una squadra possibilmente di media-bassa classifica di Serie A Ma non è scusa anche la Serie B C'è il Lecce che lo vuole, ci sono anche altre squadre Milan lo vorrebbe vedere, misurare in Serie A Per valorizzarlo ulteriormente, farlo crescere Per fargli fare le ossa Ovviamente arriverà un colpo a centrocampo Ma veniamo alle altre novità Ieri abbiamo detto di un ritorno di fiamma Con Ayer, gigante del Celticalt 1,98 Assistito dall'agenzia che si chiama SEG In settimana, credo martedì, dovrebbe esserci l'incontro Con i suoi rappresentanti per valutare la fattibilità Ebbene, so che non lo vogliono cedere così facilmente Ha parlato poi oggi anche il tecnico Lennon Dicendo vogliamo tenerlo E comunque il prezzo è superiore ai 15 milioni di euro Credo che alla fine possa essere 20, ok? Il prezzo giusto E che il fatto lui che dico vorremmo tenerlo È una dichiarazione scontata Il Milan comunque come priorità ha sempre Milenkovic Che ieri ha giocato con la Fiorentina Me l'avete scritto in tanti Non benissimo, un po' troppo falloso Si è beccato anche il giallo Ha sofferto un po' troppo in marcatura Belotti Però insomma era la prima a ci postare Forse non sia ancora brillante Lui è anche molto alto 1,95 è pesante Quindi ci mette un po' più tempo rispetto a quelli più snelli Entrare in condizione Però al di là della partita di ieri Milenkovic secondo me sarebbe un gran colpo Ed è comunque, ripetiamo, il preferito di Pioli Che chiede il giocatore Il Milan lo vuole regalare Lo vuole accontentare La Fiorentina però non è così convinta E su Milenkovic a differenza di Chesa Ci sono anche delle concorrenti Vediamo che cosa succede ad esempio con Skriniar Se Skriniar va via Allora la seconda squadra di Milano potrebbe farci un pensierino Si era detto anche del Napoli nel caso partisse Koulibaly Ma al momento non sembrano esserci discorsi ben avviati Per quanto riguarda l'uscita di Koulibaly Napoli che tra l'altro ha vinto 2-0 contro il Parma con un ottimo Simen Che era stato accostato anche al Milan Era uno dei giocatori seguiti dal Milan Che però è andato appunto al Napoli Rinforzandolo molto Bisogna stare attenti sicuramente anche a Napoli Ma vediamo che cosa succede dietro Se esce o meno Koulibaly E poi insomma la prima partita Quindi vediamo senza fretta Noi però domani dobbiamo vincere per forza di cose Per partire bene Per non avere poi dubbi, incertezze E vedere gli incubi del passato Per quanto riguarda Chiesa Ieri Chiesa ha giocato Secondo me è sembrato concentrato ovviamente sulla Fiorentina Come giusto che sia per un professionista serio come lui Ha dato molta quantità e anche qualità È stato suo l'assist per il gol decisivo Di Koulibaly Che doveva soltanto mettere in porta la rete Abbiamo sognato forse un po' tutti O quasi tutti Di vedere con la mania del Milan Di pensare che quella palla la mette dentro poi magari Ibrahimovic o Rebic sul secondo palo Vediamo se si concretizza Dal Milan comunque Dal Milan trapela sempre prudenza Ma mi sembra un po' più di apertura rispetto a prima Quello che ho registrato io Ecco Non un no secco Ma molto molto difficile Sicuramente non è facile Andiamo nell'ordine Perché prima della partita Ieri ha parlato Prade Dicendo Oggi non c'è nulla che ci possa far pensare che andrà via Oggi è così E poi la domanda 70 milioni L'ho detto anche di più ridendo Qualcuno ha letto soltanto le agenzie e pensava davvero che Chiesa viene valutato più di 70 milioni In realtà non è così Non bisogna preoccuparsi La cifra è molto più bassa E il Milan vorrebbe fare una formula tonale con il prestito Ha parlato anche commisso Che inizia a essere un po' indispettito sul nome di Chiesa Castrovilli dice Resta sicuramente Chiesa non lo so Non chiedetemelo più Insomma lasciateci lavorare Se bisogna lavorare Se dici non lo so Ecco Forse io mi sono davvero concentrato su Chiesa Ma non così Perché ho detto L'inizio Chiesa Ha buttato lì Ma perché so che effettivamente il Milan si sta concentrando su Chiesa E non ha delle vere alternative per il ruolo Ma effettivamente un'altra dichiarazione Che fa pensare che È un tema caldo È un nervo scoperto E sa benissimo commisso Che il giocatore vuole andare via A questo proposito Risulta che in settimana Vediamo quando Probabilmente intorno a metà settimana Dovrebbe esserci un nuovo incontro Forse decisivo Tra commisso E Chiesa Potrebbe partecipare anche il papà Sicuramente un faccia a faccia Tra presidente e giocatore ci sarà E a quel punto Commisso proverà a convincere Il giocatore a restare Dall'altra parte Vedremo quale sarà la risposta Appunto di Federico Chiesa Che comunque al Milan ci vuole venire E ci vorrebbe più che volentieri Dichorazioni che non devono preoccupare Per capire anche la tempistica Il Milan Prima di giovedì Quando avrà il secondo impegno in Europa League Non credo farà operazioni Il mercato chiude tra due settimane Mi aspetto che i colpi saranno concentrati Nell'ultima settimana E addirittura Forse dopo il primo ottobre Quando sapremo Speriamo di essere Qualificati In Champions League Ma anche se il Milan Non va in Champions League Scusate in Europa League Magari Però magari l'anno prossimo Anche se il Milan Non va in Europa League Non è che poi resta fermo E non fa più operazioni Il difensore lo fa sicuramente Il centrocampista Credo anche Ecco Il discorso Forse Chiesa Balla più Tra Europa League Sì E Europa League No Perché Europa League Sì E Europa League No Ballano 15 milioni di euro Che sono più o meno Anche il prezzo Che il Milan Vorrebbe destinare Alla Fiorentina Come prestito oneroso Per Chiesa Quindi vediamo che cosa succede Ma nel frattempo Deve uscire anche Pachetà Le frasi di Pioli Sono evidenti Il Milan Non ci punta E credo anche Che possa Essere Forse un po' Più vicino Alla cessione E se Pioli Comunque dice Qualche problemino Anche di modulo Vediamo che cosa ci dirà Al mercato Questa è la sensazione Invitando sempre Il giocatore ad andarsene Cosa che ha fatto Insomma Al Milan La più riprese Negli ultimi tempi Però Oltre al calciomercato Ripeto c'è il campionato Milan che scenderà in campo Domani con Donna Rumma A destra Calabria A sinistra Hernández Chiaere e Gabbia Per forza di cose I difensori centrali L'unica alternativa È Duarte Mettilo da parte Verrebbe da dire Forse va in Brasile In prestito Vediamo Al centro capo Che si è ben asser Con Tonali Che va in panchina Così come Diaz Ma sono risorse Che spero di sfruttare presto Ha detto Pioli poco fa Milan Nero in conferenza stampa Giocherà Castiglieco a destra C'è la Noglu E l'asse con Ibrahimovic Sarà fondamentale E poi Rebic Che non ha giocato giovedì Perché Deve scontare Tre turni di squalifica Uno l'ha già scontato In Europa League Una buona formazione Che può migliorare dove Sicuramente nel centrale Gabbia Con tutto rispetto Non può fare Il titolare del Milan oggi E magari anche in futuro no Anche se ci piacerebbe molto Essendo un prodotto Del settore giovanile del Milan E poi Castiglieco Che si spera Possa essere sostituito A mercato Quasi finito Da Federico Chiesa A quel punto La formazione sarebbe Di tutto rispetto Difensore Restiamo su Milenkovic Come priorità Ma attenzione Ayer Perché se Davvero è difficile Arrivare a Milenkovic Il Milan Prova a chiudere Per lo scozzese Alto Ripetiamo 1,98 Qualche gollo fa Ovviamente di testa Sulle palle inattive È insuperabile Porterebbe centimetri Ma anche Milenkovic È soltanto 3 cm più basso Anche lui fa gol Conosce il campionato italiano Può fare il difensore centrale E anche il terzino destro Vi saluto Vi ringrazio Forza Milan Like 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 Per dire insieme Forza Milan In descrizione Qui in basso Se non l'avete ancora fatto È gratis Ciao